Musica Tutto vuol dire che sono 40-50 anni come direi che non stanno andando solo perché non stanno andando perché stanno solo così e stanno solo in un'unità, la cosa già andava la vita già stia, stanno andando sotto e cominciando tutto buonissimo e il muciniero è fatto che sta rubato da 30 anni fino a me e ora stanno andando è comandissimo Musica pot 밀pugnon Oggi troppo arbitra all'arbe possibilità che tutti che Grazie a tutti.